Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale Trebis Tiberina rallentamenti per mezzi Spargisale Nazione tra Canili e Cesena Nord. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della regione Toscana. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce e sull'Arno in direzione Firenze. Sulla statale un Aurelia chiuso a una corsia per lavori tra Gavorrano e Scarlino Scalo in direzione Genova. E' segnalato un veicolo fermo prima dell'incrocio di Rio Torto in direzione Genova. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!